Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Servizi WordPress in questo video andiamo a vedere Elementor Pro versione 3.3 beta e le nomità che verranno introdotte con questa nuova versione andiamo a vedere insieme di cosa sto parlando eccoci qui su GitHub dove vengono rilasciate le nuove beta di Elementor e Elementor Pro in questo caso andiamo a vedere la versione 3.3 di Elementor Pro che inserisce la video playlist potete andare a creare una playlist con un nuovo widget video che troviamo in Elementor Pro e le image hotspot potete andare a creare delle immagini con gli hotspot e cosa sono gli hotspot? sono dei pin, sono dei punti di riferimento sull'immagine li vediamo sulle mappe nella maggior parte dei casi che potete andare a creare con delle icone, con del testo, con dei tooltips ok? sono delle integrazioni interessanti che di solito dobbiamo andare a implementare utilizzando un widget aggiuntivo attraverso un plugin aggiuntivo andiamo a vedere su un'installazione di Wordpress mi raccomando se volete testare la versione beta non fatelo su un'installazione di Wordpress in produzione ma fatelo sempre su delle installazioni di prova o in locale altrimenti potete corrompere il vostro sito web se è già in produzione fate sempre un backup prima di fare dei test oppure fatelo in staging andiamo a vedere quali sono questi nuovi widget andiamo sotto Pro dovete avere installato Elementor e Elementor Pro per testare la beta e scendendo troviamo Video Playlist eccolo qui lo inseriamo e come vedete possiamo andare a creare una playlist di video da inserire all'interno del nostro sito web c'è un video principale che è il video in evidenza che andiamo a cliccare sulla lista, sulla playlist e poi possiamo andare a vedere anche i successivi possiamo qui sulla sinistra sotto contenuto vediamo c'è il playlist name possiamo dare un nome alla playlist e poi aggiungere dei video all'interno degli items che sono nella playlist possiamo aggiungere elementi quindi andare a aggiungere altri video oppure toglierli cliccando sulla X per toglierli come anche per altri widget che troviamo già in Elementor e in Elementor Pro andiamo a vedere all'interno del widget dell'item quello che possiamo fare è inserire un video di YouTube o un video self-hosted quindi o stato ospitato sul nostro all'interno del nostro sito delle nostre installazioni di WordPress all'interno della rubrica media che avete sul vostro sito web che cosa possiamo fare qui? andare a inserire un video di YouTube per esempio eccolo qui andiamo su YouTube velocemente prendiamo un video e lo andiamo a inserire eccolo qui lo andiamo a inserire come un classico video che inseriamo all'interno di Elementor eccolo e l'abbiamo inserito possiamo dare un titolo al video eccolo qui e possiamo ci saranno delle funzionalità che possono essere adesso magari le vedete poi nella versione finale non ci sono più o alcune funzionalità che magari le testate in beta che potrebbero funzionare correttamente in linea di massima questo sarà lo schema che ci sarà all'interno del widget playlist possiamo andare a scegliere un'immagine per la per identificare il video nella nella playlist quindi un'immagine potete scegliere quella che volete mettiamo una di test velocemente come vedete il video verrà identificato con una piccola immagine e successivamente potete fare la stessa cosa con gli altri video che andate ad inserire sotto schede abbiamo la possibilità di vi faccio vedere ritorniamo velocemente sulla playlist sul video 1 eccolo qui content apps attualmente c'è la possibilità di inserire dei content apps quindi c'è la tab 1 eccola qui la prima che potete poi andare anche a modificare nel nel titolo tab 1 e tab 2 e potete inserire del contenuto sotto al video sotto alla playlist stessa cosa potete fare con tab 2 non so se resteranno tutte queste opzioni comunque attualmente ci sono eccola qua tab 1 e tab 2 quindi poi successivamente scendendo dove eravamo arrivati prima sotto schede dove c'è scritto tab 1 potete scrivere qualsiasi cosa e sotto tab 2 cambiate il titolo delle due tab ok per identificarle e per identificare i diversi le diverse tipologie di contenuto che ci sono all'interno menu collassabile vediamo un attimo che cosa ci dà attualmente non vedo modifiche rispetto a quello che c'era prima altezza anche qui vedo poca differenza comunque non importa image overlay possiamo mettere un image overlay per la per la video playlist ok non credo sia per il singolo video andiamo a vedere se la inseriamo e andiamo a inserire un'immagine vediamo quale eccola qui un po' più grandina questa immagine sarà l'immagine della video playlist e poi una volta cliccato sopra parte il primo video va a coprire fa l'overlay sul primo video che andiamo a inserire dimensione dell'immagine potete andare a inserire la dimensione dell'immagine icona del play potete andare a scegliere l'icona o caricare in icona del play opzioni aggiuntive layout sinistra destra andiamo a spostare il layout della nostra playlist autoload onload potete fare l'autoload prossimo video next up uscirà un'indicazione del prossimo video e così ci sono anche altre impostazioni da andare a verificare e scoprire sotto stile possiamo modificare la grandezza del layout in base a quanto vi serve top bar possiamo andare a cambiare il colore di sfondo il colore facciamo eccola qua un esempio il colore qui possiamo andare a scegliere un altro colore ci cambia il colore del testo tipografia potete andare a cambiare la tipologia di di font utilizzato eccolo qui e anche per quanti video ci sono all'interno della playlist potete andare a modificare il colore e via dicendo per il video possiamo andare a cambiare anche qui le varie impostazioni di colore questa tabella la tipografia eccetera sezione anche per le sezioni andiamo a vedere un attimo che cosa intende per sezioni possiamo andare a modificare il colore non vedo significativi cambiamenti schede le due schede sotto potete andare a cambiare anche il colore di sfondo per le varie tipologie di schede che andate a inserire e lo potete fare per quanti video volete ok abbiamo inserito uno inseriamo un altro velocemente e così come vedete stessa cosa possiamo fare qui andiamo a inserire il nostro video e alterniamo anche l'immaginetta che abbiamo già inserito precedentemente eccolo qua come vedete video 1 video 2 eccetera eccetera tutto il procedimento lo potete fare per andare a creare la vostra video playlist potrebbe essere utile se nel vostro sito web avete più video potrebbe essere utile se avete un sito web membership dove fornite dei video ai vostri utenti è interessante questo nuovo widget che ci ci regala Elementor andiamo a vedere poi la hotspot eccola qua hotspot inseriamo sotto e anche per questa immagine andiamo a inserire anche per questo widget scusate andiamo a inserire una nuova immagine possiamo scegliere vediamo un attimo un'immagine importante che sia abbastanza grande questa vediamo ok andiamo a inserire qua dimensione dell'immagine pieno gli diamo tutto lo spazio e sotto contenuto inseriamo l'immagine l'allineamento destra sinistra centro dell'immagine hotspot elemento 1 andiamo a inserire una etichetta per esempio Elementor eccola qui che appare e sotto c'è il tooltip ci clicchiamo sopra adesso al clic esce fuori il nostro tooltip che cos'è è il testo che dà delle informazioni in riferimento per esempio al testo principale se qui andiamo a inserire da libreria icono una ma un'iconcina che si riferisce a una mappa la inseriamo potrebbe essere una località su una mappa con l'indicazione con un'indicazione specifica abbiamo qui la posizione dell'icona destra sinistra spaziatura dall'icona eccola qua potete aggiungere il testo che volete qui sotto e posizione la possiamo andare a posizionare ok clicchiamo un attimo sopra eccolo qui offset dove la vogliamo posizionare destra sinistra in alto orientamento eccola qua per esempio se la vogliamo mettere qui in questa posizione e poi potete aggiungere anche altri elementi ok c'è un'animazione sul sulla sull'iconcina sul testo che potete andare a modificare sotto la voce animazione ok soft beat quando passiamo con il mouse al passaggio del mouse farà il soft beat se andiamo ad inserire expand al click in questo caso farà visualizzare il tool tip e ne potete aggiungere più di uno ok potete ripetere il procedimento e inserirne quante più ve ne servono all'interno di una mappa per esempio eccolo qui il secondo eccetera se andiamo sotto tool tip possiamo scegliere il testo che abbiamo detto prima dove posizionarlo ok sinistra in alto destra in basso trigger quindi quando si azionerà al click al passaggio del mouse oppure nessuno è sempre attivo ok quindi decidete voi magari al passaggio del mouse e potete dare un'animazione feed grow ok e scegliere anche la durata dell'animazione passando allo stile possiamo decidere la larghezza dell'immagine l'altezza ok di questa immagine attenzione a non strecciarla troppo altrimenti diventa inguardabile l'opacità dell'immagine se c'è bisogno di dare un po' di opacità all'immagine e poi andiamo a modificare gli aspetti dell'hotspot ok il colore scegliamo un colore verde date sempre un contrasto dei colori altrimenti diventano poi illegibili soprattutto il colore del testo sulle immagini dimensioni potete scegliere la grandezza tipografia potete andare a scegliere la famiglia della tipografia la larghezza del del testo box color se volete creare un box intorno alla scritta basta andare su box color e vi create il vostro box color ok in questo caso poi sarà da cambiare anche il colore altrimenti non si legge rientro volete dare un po' di rientro allo spazio tra il testo e il box potete andare a orientare il tutto da rientro raggio del bordo se lo vogliamo fare un po' più tondo o tondeggiante ombra riguardo se lo vogliamo mettere il rilievo ok tool tip stessa identica cosa potete andare a scegliere il colore del testo in questo caso se date prima un colore al box date prima il colore al box e poi eccolo qui andate a cambiare il testo il colore del testo potete cambiare i font la larghezza del box anche qui e potete dare un rientro e un raggio del bordo per farlo tondeggiante quindi quando andiamo qua vedete che è cambiato ombra di quadro eccolo qua abbiamo fatto la nostra nostro hotspot con le indicazioni sotto e sono abbastanza interessante se fate se il vostro sito avete delle mappe oppure se vi date informazioni su anche dei prodotti che contengono un qualsiasi cosa o dare delle informazioni attraverso delle immagini questo è il widget hotspot ragazzi in questo video abbiamo visto sia il video il widget playlist che il widget hotspot che verranno rilasciati nella versione prossima di Elementor Pro 3.3 per questo video ragazzi è tutto io vi ringrazio vi saluto ciao a presto da Raffaele ciao a presto ciao a presto ciao a presto